Alla Piscina delle Rose c'è anche Paolo Masini, consigliere comunale uscente, candidato consigliere comunale, ha ricoperto l'incarico di vicepresidente della Commissione Scuola, Sport e Cultura del Comune di Roma. E ora che ci aspettiamo da Ignazio Marino, a parte che ce la possa fare o meno? Ci aspettiamo quello che ci siamo detti e che abbiamo condiviso insieme in questi giorni, quindi scrivendo il programma insieme, di costruire una città finalmente che metta al centro la persona, che metta al centro il benessere della persona, pertanto unendo il sociale allo sport, all'attività sportiva, alla pratica sportiva, facendo diventare i nostri parchi delle palestre all'aperto, facendo diventare i nostri luoghi, dei luoghi belli da frequentare e da vivere, dove le persone possano stare bene fisicamente, moralmente e anche spiritualmente. E' un impegno che ci stiamo prendendo, importante con i cittadini, anche riformando la macchina amministrativa e oggi questo incontro serve per suggellare, per siglare questo patto e per andare spediti alla riconquista di Roma. Paolo Casini mi sembra che va a ballare il giorno giovedì 16 all'Alfeus. Sì, giovedì 16 sera, dalle 21 all'Alfeus, faremo una grande festa. Con Nicola Zingaretti e altri grandi personaggi. Con Nicola Zingaretti che ci verrà a trovare perché la campagna elettorale è una campagna, giustamente nella campagna elettorale è una campagna elettorale faticosa, dove si parla molto di problemi e di soluzioni spesso. Però abbiamo pensato di fare un pit stop, l'abbiamo chiamato. Dieci giorni esatti dal voto, ci fermiamo un attimo per fare una serata anche divertente, mi auguro, perché tra l'altro ho scritto insieme a Fabrizio Giannini un attore un testo sui cinque anni di Alemanno, divertenti se non fossero drammatici, e poi ci saranno dei dieci disegnatori satirici che hanno deciso di sostenere la mia campagna elettorale facendo ogni giorno sul nostro sito una vignetta su queste vicende d'attualità e quel giorno le metteremo tutte in fila e poi si ballerà. Chi ha tempo, voglia e gambe, fino a tardi, io credo che alle 11 me ne vado perché comincio a essere stanco. E' l'inizio del percorso per arrivare all'assessorato alla qualità della vita? Vediamo, vediamo. Io mi auguro che Ignazio Marino metta su una squadra seria, dignitosa, di gente per bene e preparata che gli possano dare una mano. Se tra queste persone sceglierà di scegliere una certa maniera, meglio, vedremo. Buon lavoro. Grazie a voi.